non so quando andrà in onda questo spezzone di video però lo faccio ora perché sono ispirata e quindi batto il ferro finché è caldo in quanto vorrei chiarire alcune cose allora io ringrazio tutti quelli di voi che mi hanno a parte quelli che si sono iscritti al canale quelli che mi seguono questo osserva san sd però ultimamente ci sono sempre più persone che mi contattano privatamente soprattutto attraverso la mia pagina facebook del canale monica log e io sono sempre disponibile a scambiare messaggi a rispondere alle vostre ai vostri rispondere ai vostri commenti sia sotto i video vedete io rispondo sempre a tutti perché se a meno che non siano insulti io potete controllarlo molto volentieri interagisco rispondo dico quello che penso rispondo a quello che voi mi dite e lo stesso faccio anche quando mi iscrivete sul sulla pagina facebook del canale monica log per esempio apro e chiudo parentesi ho avuto uno scambio qualche settimana fa molto interessante non so se mi stai ascoltando però se peppe stai vedendo questo questo pezzo di video vorrei dirti che è stato molto interessante lo scambio che ci siamo che abbiamo avuto dove mi facevi vedere le immagini che mi hai mandato e il link del progetto mebus io penso che si pronunci mebus è scritto moebus e mi piacerebbe effettivamente approfondirlo e magari forse prossimamente farò anche un video quindi grazie se mi stai ascoltando questo lo dico anche per appunto spiegare a voi che effettivamente io vi rispondo interagisco però sempre più spesso ultimamente e l'ultima volta è stato proprio qualche giorno fa mi viene chiesto di parlare telefonicamente allora intanto cercate di mettervi nei miei panni cioè voi vedete il video quindi sapete chi avete davanti io quando mi arrivano messaggi non so chi c'è dall'altra parte sicuramente siete tutte persone educate con dei buoni fini però io non so appunto ripeto chi c'è dietro e quindi insomma questo mondo è un mondo variegato perciò finché si tratta di fare uno scambio attraverso appunto la tastiera mi va bene se devo dare il mio numero di telefono chiamarvi innanzitutto io tutto questo tempo a disposizione francamente non ce l'ho però è anche bello dedicarvi del tempo perché io lo dico sempre faccio questi video perché spero di farvi compagnia e sicuramente voi fate compagnia a me ma detto questo non posso stare a chiamare chiunque mi chiede di essere chiamato o richiamata mi farebbe molto piacere però uno non ho il tempo due ripeto ve lo dico proprio sinceramente io non so chi c'è dall'altra parte io su questo canale comunico con voi mi piace farvi compagnia e voi fate compagnia a me e quindi sono in cammino penso che anche voi siate in cammino se mi seguite e quindi magari potete iscrivervi al canale facciamo un pezzo di strada insieme e possiamo parlare di tutto quello che riguarda il mondo dell'invisibile che come dico sempre così invisibile non è parlare di tante cose che sono attorno a questo mondo ci sono moltissimi e vastissimi argomenti collegati fra loro se ne può parlare però appunto se ne può parlare scambiandoci dei messaggi o sotto i miei video come commento oppure appunto come messaggi sulla mia pagina facebook del canale ok non per via telefonica però e in ogni caso se ne può parlare ma non contattatemi perché non sono una medium ecco non faccio la medium e quindi mi spiace aver detto di no alla ultimamente a una persona che gentilmente molto carinamente mi ha cercata sicuramente aveva le migliori intenzioni di questo mondo però come ho chiarito privatamente lo chiarisco adesso anche qua non è per questo che io faccio i video e poi ribadisco io non sono per andare a fare le sedute spiritiche e contattare le persone che non ci sono più non giudico chi lo fa chi lo vuol fare ovviamente libero di farlo se andate a cercare però le persone che vi possono mettere in contatto quindi se cercate dei medium ripeto fate attenzione cercate le persone serie ci sono esistono ma non sono tantissime quindi ripeto informatevi bene ecco volevo fare questo video che sta diventando già un po lungo ma pazienza è bene prenderci il tempo che ci vuole perché è bene chiarirle queste cose e niente spero cioè non prendiamo non prendetemi via spocchiosa ma veramente non non faccio la medium appunto in ogni caso ripeto si può comunicare attraverso i messaggi non è obbligatorio sentirsi così al telefono se non ci si conosce non offendetevi mi raccomando cercate di comprendere ancora grazie adesso parleremo spero di un argomento che vi possa che vi potrà interessare a dopo benvenuti o bentornati sul mio canale questa parte di video è collegata con l'introduzione come capita in tutti i miei video quindi se avete visto come credo l'inizio sapete che io sto parlando in questo video del fatto che non sono una medium tutto quello che ho detto non lo ripeto perché sennò si perde tempo però volevo dedicare un video specifico alla figura del medium dicendo cose che in parte ho già anche detto e citando tra l'altro un libro che ho già citato in passato e che vi metto qui ma ripetite ai uvant tra l'altro quando ve ne ho parlato in quel video io il libro che nella fattispecie è questo alessandro stani perché ci sia luce qui e nella versione che ho in ebook dicevo quando ve ne ho parlato io il libro di alessandro stani lo stavo leggendo ero già a buon punto ma non l'avevo ancora finito adesso invece non solo l'ho finito ma nel frattempo io l'ho anche riletto perché è un libro che a parte è molto interessante ma richiede una certa attenzione un certo approfondimento per cui dopo una prima lettura sono andata a rileggermelo ho guardato le note ho preso appunti me lo sono studiato insomma diciamo così a premetto ovviamente alessandro stani non mi paga perché io parli di questo libro perché come chi mi segue sa io nei miei video parlo di cose che ho provato sulla mia pelle diciamo così e vi parlo di quello che di solito ha incontrato il mio gusto quello che mi è piaciuto e questo libro secondo me vale veramente la pena di essere letto se volete approfondire questo mondo dell'oltre diciamo così il mondo dell'invisibile che poi così invisibile non è come dico io e anche se volete appunto approfondire la figura del medium e quindi ovviamente non vi racconterò il libro prima di tutto perché non voglio spoilerare e poi perché ci sono giustamente dei problemi di copyright non che io non posso né voglio violare però dicevo prima che allora io ho sicuramente delle doti medianiche non dico di no ce l'ho fin da quando ero bambina e ho avuto anche delle esperienze che non sono state così positive per questo io primo dico sempre state molto attenti quando cercate di comunicare con chi non c'è più o quando vi affidate a qualcuno per comunicare con chi non c'è più inoltre dico anche state molto attenti proprio tu cur perché per esempio io quando ero ragazzina mia mamma mi aveva fatto era lei che mi aveva spinta diciamo così in totale buona fede ne sono sicura ma sbagliando lei si era accorta che io avevo delle doti di sensitività e quindi mi aveva spinta a fare la cosiddetta tavoletta del guigliano e facendola io appunto avendo delle doti ho attirato delle presenze però poi io non mi sentivo bene perché a volte le presenze che vengono non sempre sono delle buone presenze tutto questo lo dico per dirvi che appunto non è un gioco ed è qualcosa che ovviamente al quale io credo che mi interessa che approfondisco ma non con facendo delle appunto delle sedute spiritiche o incentivando a il tentativo di voler comunicare con chi è andato nell'oltre primo perché ripeto non vanno cercate le persone che sono andate nell'oltre se vogliono comunicare alcuni di voi lo so e lo comprendo perché se una persona cara ci lascia è chiaro che noi abbiamo desiderio avremmo desiderio di sentirla vicina di continuare ad avere qualche comunicazione con questa persona però è sbagliato se i nostri cari vogliono comunicare un modo per farlo lo trovano se non lo fanno e perché o non possono o sono oltre o comunque non ne hanno la necessità andarli a cercare ripeto è sbagliato e questo non lo dico soltanto io viene anche detto nel libro di alessandro stani per esempio ma anche altre persone altri medium sostengono questo allora intanto ripeto alcune doti medianiche è chiaro che le ho e credo che le doti medianiche siano innate credo credo anche che siano forse a volte si tramandano credo non ne ho la certezza però per esempio la mia bisnonna a detta di mia nonna e anche di mia mamma aveva delle doti medianiche quindi forse si tramanda in famiglia probabile io so ripeto che fin da bambina sentivo avevo delle sensazioni mi accorgevo che c'era qualcosa in quello che non si vedeva ma che io riuscivo a vedere a percepire con gli occhi appunto dell'anima della sensibilità della sensitività quindi quando dico non sono medium si è vero non sono medium però allo stesso tempo cioè ci sono vari gradi di doti medianiche e di sicuro io comunque delle doti di sensitività ce l'ha ce l'ho forse ognuno di noi potrebbe averle vanno magari sviluppate perché probabilmente sono innate in tutti o comunque nelle persone che cercano un percorso che fanno un determinato percorso essere medium significa vivere in mezzo praticamente cioè essere in mezzo tra una realtà incarnata e una realtà spirituale praticamente è un po viaggiare nei mondi fra questo e quello dell'oltre quello dell'invisibile che così invisibile non è ed è anche uno stabilire delle comunicazioni delle comunicazioni che ripeto in chi ha doti medianiche arrivano anche se non richieste però è una missione ed è una missione che è finalizzata a collegare le varie dimensioni per aprire una via allo spirito sto parafrasando in parte quello che afferma lo stesso Alessandro Stani nel suo nel libro che vi ho citato perché ci sia luce ed è appunto una missione ed è appunto una missione finalizzata a collegare le dimensioni ad aprire una via una via allo spirito e anche a perfezionare il cammino diciamo così di chi si trova su questo piano dell'esistenza che noi abbiamo scelto di vivere però ripeto i medium sono delle persone che se sono veramente brave sono delle persone serie saranno loro le prime a dirvi che in realtà lo dico e lo ripeto i nostri cari non vanno cercati loro trovano il modo di comunicare con noi se vogliono e a volte i medium appunto tipo Alessandro Stani a volte leggendo il libro si vede che chi va da lui quando lo incontra lui vede accanto alle persone che gli vanno che lo incontrano nel suo studio vede delle persone a care a chi appunto lo cerca e prende appuntamento con lui lui vede alcune persone una o più persone care che stanno accanto a noi però sono loro che si fanno vedere non è che lui va a cercarle facendo appunto delle sedute spiritiche infatti una cosa è essere medium e come dire la medianità si discosta in modo molto molto netto dallo spiritismo lo spiritismo è un'altra cosa è un'altra pratica diciamo così il medium naturale non necessita di come dire di strumenti concreti per entrare in contatto con chi è andato nell'oltre il contatto il medium ce l'ha con un moto interiore non con appunto la tavoletta del WIA come invece facevo io quando ero ragazzina con la mia mamma poi però io ho smesso di fare queste cose ma come ho detto in un video che trovate qui pur non facendo queste cose ogni tanto mi è capitato di appunto entrare in contatto con delle persone che erano nell'oltre ma non perché le ho cercate perché sono loro che sono riuscite a comunicarmi qualche cosa lui nel suo libro racconta che ci sono vari tipi di medium e io così leggendolo mi sono resa conto per esempio ci sono i medium chiaro udenti quelli che lui chiama i medium o che vengono definiti i medium chiaro udenti che hanno il senso maestro che è quello dell'udito molto sviluppato ovviamente per udito non si intende solo l'udito dell'orecchio ma anche del suo speculare animico cioè l'udito interiore ossia il medium riceve delle parole sente delle voci internamente che era appunto quello che era accaduto a me che ogni tanto accade a me e chi sente queste voci internamente poi riesce a interpretarle e a riportarle verbalmente appunto alle persone con le quali chi è passato nell'oltre vuole comunicare poi ci sono i medium intuitivi il medium riceve delle intuizioni molto rapide e sono delle intuizioni che provocano un vero e proprio discorso a volte questo può succedere a chi legge le carte ci sono delle persone che leggono le carte e che sono dei medium intuitivi perché mentre leggono le carte hanno appunto queste intuizioni e questi appunto sono i medium intuitivi e poi ci sono i medium misti cioè quelli che hanno cioè come lo dice appunto la parola stessa più sensi che lavorano l'udito interiore diciamo così e l'intuizione però siccome le forze del buio esistono e assumono anche molteplici forme bisogna essere molto attenti sia quando cerchiamo noi stessi di comunicare cosa che io sconsiglio a tutti sia quando ci avviciniamo a un medium perché il medium stesso sa che esistono queste forze anche oscure e quindi loro stessi se sono dei medium seri sono molto cauti nell'avvicinare le persone trapassate diciamo così nel farsi avvicinare però loro hanno una certa esperienza e quindi se sono appunto dei bravi medium riescono diciamo così a mediare appunto nel suo libro lui per esempio parla delle larve che sono come dire entità che si attaccano alle emozioni di coloro che trapassando mentre passano nel limbo si privano si denudano si spogliano appunto delle loro emozioni le larve se ne impossessano e a volte ne assumono anche le sembianze per cui quando noi andiamo a cercare di contattare i nostri cari trapassati quindi se siamo noi a cercarli e non loro che vengono a cercare noi in qualche modo nel 99% dei casi rischiamo di ritrovarci in realtà ad entrare in contatto non con i nostri trapassati ma appunto con le cosiddette larve e ripeto questo un medio un serio ve lo fa presente ad esempio Alessandro Stani ne parla nel suo libro nel capitolo 23 cioè nell'ultimo capitolo del libro entrare in contatto con le guide e con i nostri cari nell'oltre Alessandro Stani spiega passo a passo passo per passo come noi stessi possiamo entrare in contatto con le guide perché allora se secondo lui e in fondo anche secondo me non tutti possono essere medium le doti medianiche sono innate ci sono anche alcuni che fanno dei corsi dove spiegano come poter diventare medium non non mi pronuncio su questo perché non ho mai approfondito la cosa così a naso vi dico che secondo me la medianicità uno ce l'ha o non ce l'ha se ce l'ha può magari svilupparla ma se non ce l'ha secondo me non ce l'ha e Alessandro Stani dice ci sono dei corsi che si fanno in due tre tre giorni una settimana e lui non crede molto in questo genere di corsi e secondo me torto non ce l'ha però al di là dei corsi che ripeto io non avendone mai fatto uno non posso pronunciarmi in proposito ripeto soltanto che secondo me la medianicità la dote medianica è qualcosa di innata ci si nasce con queste doti quindi dicevo se la medianicità o c'è o non c'è uno o ce l'ha o non ce l'ha in realtà però tutti possiamo entrare in contatto con le nostre guide spirituali è una cosa non semplice ma a questo mondo moltissime cose anzi la stragrande maggioranza delle cose importanti non sono così così semplici però volendo questo lo possiamo fare ci sono delle tappe da seguire e lui lo spiega e questo è un motivo in più per cui io vi consiglio questo libro e lo consiglio a voi che magari siete interessati in modo particolare appunto al discorso della medianicità perché qui viene spiegato come possiamo riuscire a chiedere aiuto all'universo perché l'universo accanto a noi ci sono delle ci possono essere delle guide una o più guida guide che possono venirci in aiuto però dobbiamo aprire i nostri sensi per riuscire ad ascoltarli per riuscire a intenderli e ripeto anche per motivi di copyright non vi posso spiegare come si deve fare però nel libro secondo me viene spiegato davvero in modo semplice laddove per semplice non intendo facile però in modo chiaro come con la buona volontà e con l'esercizio ci si può arrivare e poi ripeto nel nel volume viene spiegato anche il mondo dell'oltre in senso molto particolareggiato e ve viene spiegato quello che io vi ho brevemente riassunto dicendovi appunto le cose più importanti riguardo alla alla medianicità alla figura del medium e al perché affidarsi a un medium serio al perché non andare a cercare i nostri cari se non sono loro a venirci in qualche modo a contattare e quindi ecco qua spero di aver chiarito alcuni punti di esservi stata utile e avervi fatto compagnia anche con questo video e nulla per il resto se il video vi ha soddisfatto e vi è piaciuto come dico sempre per favore mettetemi un like grazie a chi si è iscritto grazie a chi eventualmente si iscriverà perché se questo video o altri miei video vi fanno compagnia e il canale vi piace e ancora non vi siete iscritti per favore iscrivetevi ciao e alla prossima ciao